eccoli qua stanno arrivando sono partiti per scendere giù stanno ripartendo per fare il salto eccoli 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 si muovono adesso piglio e parto pure io guarda lì di caccia l'era hai capito oh ma è da mezzo qua Vabbè, se lo pietzo è già ripigliato si il è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.